Non posso credere che tu stia usando una pizzeria come copertura per le tue attività criminali, Jack. Ah, ma non è una pizzeria qualsiasi, ragazzo. È il miglior covo di pirateria e salame piccante da questa parte del Mediterraneo. Oh, i furbanti fareste meglio a tenere l'inica e i peperoni. Abbiamo degli affari da sbrigare. Elisabeth, sei la ragazza più bella del villaggio. Mi faresti l'onore di unirti a me per una pizza. Perché, signor Turner, ne sarei felicissima. Ma speriamo che la pizza non sia così piccante come l'avventura che ci aspetta. Ricordate, carissimi, questa operazione deve essere più agevole della marinara sulle nostre pizze. Li lasceremo desiderare di più. Sì, e se qualcuno di quei gangster rivali si mette sulla nostra strada, gli daremo un assaggio dei cannoni della perla nera. Parà, parà, parà. Parà, parà. Parà, parà. Grazie a tutti